Nel 1969 i più scatenati andavano a Woodstock, i più sfortunati andavano in guerra, ma quelli che non sapevano che strada scegliere, tu sei la sola diplomata a non andare all'università, io non ho piani, soltanto non voglio finire come mia madre, li mandavano a Claymore, il posto migliore al mondo per una come te e a meno di mezz'ora da qui, benvenuta a Claymore. Credo di essere perclessa su perché devo stare in un ospedale psichiatrico, chiamami un taxi, ok sei un taxi, hai buttato giù un flacone di aspirina con una bottiglia di vodka, avevo un mal di testo, su coraggio fa un passo avanti mi pianto questa è nella horta, Lisa la horta ce l'hai nel torace, buono a sapersi, che cosa sono? Per dormire, non ne ho bisogno, che c'è abbiamo dei problemi? Guardami, c'è qualcosa nel sesso che ti provoca un senso di disperazione? Lei ha mai fatto sesso? Alti e bassi aumentano sensibilmente, Lisa crede di essere speciale perché è sociopatica, io sono sociopatica, no tu sei lesbica, se riscontrano spesso incertezza sugli obiettivi è un diffuso atteggiamento pessimistico, sono io, siamo tutti così, tu non dovresti stare qui, Lasciatemi! Sta cambiando tutto, che ne sanno loro cos'è essere normali? Fammi uscire da qui! Fai qualcosa tu per uscirne, andiamo Un gelato di crema con cioccolato caldo, panna montata, ciliegine e... Sei pazza? Take a load off, baby Take a load for free Take a load off, baby And you put the load right, the load right on me Come going, be Grazie a tutti